Smantellare l'inceneritore di San Rocco, nemmeno per sogno, l'idea dopo essere stata propugnata dal sindaco di Cremona Gianluca Galimberti per ben due campagne elettorali fino al recente slittamento della data di chiusura al 2023 rischia di rimanere soltanto tale. La regione Lombardia ha infatti imposto una stretta agli spandimenti di fanghi in agricoltura i quali potrebbero essere bruciati negli impianti sottoutilizzati e quello di Cremona è proprio uno di questi con 80.000 tonnellate di rifiuti bruciati contro una capacità di 140.000. A2 ha così proposto al Comune un progetto per adeguarlo alle normative per bruciare i fanghi mettendo sul piatto una cifra superiore ai 4 milioni di euro ma ci sarebbero anche alternative. Nei fanghi ci finiscono chiaramente le deiezioni umane ma ci finiscono ad esempio anche i detersivi ci finiscono le sostanze pericolose che vengono rilasciate in fognatura dalle piccole e medie aziende ma producono degli impatti cumulativi. La riflessione che poniamo è cominciamo a decostruire il processo e andiamo a monte prima ad analizzare le componenti. Da questi componenti riusciamo invece poi a individuare quale sarà la loro destinazione e allora viene fuori che l'incenerimento non è la soluzione ideale. Invece se noi andiamo a dividere tutte quelle componenti che fanno sì che il fango possa essere invece recuperato possa essere diviso all'inizio potremmo anche produrre dei minori costi anche di smaltimento quindi anche minori costi per gli utenti finali che sono poi cittadini che pagano le bollette. Allora il nostro appello è un po' questo per un impianto pubblico quindi per un tavolo di lavoro un impianto pubblico di trattamento dei fanghi decostruendo il processo e senza utilizzo delle combustioni. Dal comune tramite una nota stampa fanno sapere che nulla è ancora stato deciso ma ci sono state delle semplici consultazioni e che verrà organizzato un incontro pubblico per discutere dell'argomento anche perché ricordano che l'inceneritore va per la dismissione nei prossimi anni. Sarà la volta buona?